Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Allora ragazzi, oggi siamo di nuovo qua, nello stesso posto bellissimo dell'altra volta Oggi proveremo di nuovo a impennare Oggi siamo col secondo episodio dove cercheremo di fare dei giochetti per diciamo cominciare a camminarla piano piano Ovviamente sempre facendo passi piano piano con i piedi di piombo Comunque come l'altra volta c'è manager che mi aiuta nella ripresa dei miei video Perché se no non riuscirei a fare niente Quindi ve lo presento, tanto già lo conoscete Vabbè ve lo presento, ecco il mio manager Bello a tutti ragazzi, comunque da frizzi siamo passati a manager Vabbè perché manager è più bello Quindi ragazzi stavamo dicendo che con quella bellissima moto Proveremo a fare l'impresa, di cominciare a camminarla, a fare tutte le gestioni No scherzo, quello è troppo, è troppo, è troppo No, no Andiamo con i piedi di piombo Stavamo dicendo che incominciamo tipo a cercare di camminare Ovviamente sempre riprendiamo la cosa di prendere confidenza col freno E useremo tipo La prima cosa da fare, ecco Proveremo diciamo a prendere più confidenza col freno con un metodo che mi hanno consigliato Quindi andiamo ragazzi Grazie a tutti 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 Allora ragazzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti